Vincenzo Salerno oggi a Palazzo Baronale, Consiglio Comunale monotematico sul PNRR, cosa bolla in pentola? L'idea di questo Consiglio Comunale nasce su proposta di nove consiglieri, io la collega Borrello, Liguoro, Caldarola e altri che abbiamo pensato che dopo aver ricevuto una serie di istanze cittadine fosse necessario un momento di confronto su una tematica così cruciale per il presente ma soprattutto per il futuro quale il PNRR. Quali sono queste istanze dei cittadini che vi sono pervenute? In realtà siamo stati sorpresi di vedere che si sono presentate e hanno già prenotato per poter esprimere il loro intervento in aula svariate associazioni o fermenti cittadini imprenditoriali. È stato piacevole riscontrare già stamattina almeno 7-8 interventi prenotati perché vuol dire che la tematica che abbiamo posto all'attenzione delle interassiste fosse effettivamente sentita in città e soprattutto avevamo paura che gli ultimi anni di malagestio amministrativo avesse ucciso definitivamente la città e invece abbiamo scoperto che il fermento è tanto e che ci sono delle anime pronte a dare le loro proposizioni all'attenzione della politica cittadina. Tematiche di politica giovanile, stadio, porto, comunità energetica e quindi parliamo di interventi che saranno sicuramente produttivi e diffuse un po' su tutte le tematiche che possono interessare la progettazione del futuro cittadino. Quindi come lei diceva prima è in gioco il futuro della nostra città, sono tanti finanziamenti a cui si può accedere? Assolutamente sì, a volte confondiamo anche questi finanziamenti come unica direttiva quella dei lavori pubblici invece no, il PNRR ha una vasta gamma di interventi, anche migliorare il futuro dei servizi cittadini è un'opportunità da non perdere. Grazie a tutti!